quindi il lavoro che fanno con i programmi ma se gli utenti non hanno tutte queste quattro libertà se manca ancora una allora il programma controlla l'utente e questo è un'injustizia perché qualcuno si viene questo programma lui controlla il programma e il programma controlla gli utenti per cui il programma diventa uno strumento che gli dà potere ingiunti sugli utenti quindi un programma non libero è un gioco quindi questa è la nostra idea della programma free software vogliamo lottare contro questo tipo di gioco per quello che mi ha iniziato a sviluppare il sistema GNU nel 1984 oggi milioni di persone usano il sistema GNU però non sanno che sia GNU quando GNU era quasi finito nel 1992 mancava un pezzo e quel pezzo era il kernel e poi Mr. Torvalds ha creato il sistema GNU chiamato Linux che è proprio esatto ma nel 1992 nel 1992 l'ha reso libero e poi la combinazione di questo kernel Linux e quasi il sistema GNU era un sistema completamente libero sistema operativo che era il GNU fondamentalmente ma conteneva anche Linux quindi era il GNU più Linux ma quelli che hanno combinato il Linux con tutti i pezzi di GNU erano concentrati così tanto su questo unico pezzo che hanno percepito tutto il resto del sistema come una piccola parte e hanno cominciato a parlare di questo sistema come Linux quindi non ci riconoscono il nostro lavoro questo non è tanto bello per cui vi prego di parlare del sistema come GNU più Linux menzionateci abbiamo dei più uguali e noi abbiamo promosso inicialmente la cosa quindi essere menzionati anche noi mi sembra abbastanza giusto comunque c'erano più di mille distribuzioni che sono versioni del sistema GNU più Linux ma dato che la nostra comunità non ritiene la libertà non dà abbastanza valore alla libertà molte di queste distribuzioni contenevano programmi proprietari soggioganti mettevano programmi proprietari per poter fare e lavorare più lavori ma il risultato è che non vi danno la libertà la maggior parte della nostra comunità non pensa che la libertà sia l'obiettivo in fact they see these distributions vendono queste distribuzioni e che contengono software proprietari e che contengono software proprietà e formano la loro idea di questo obiettivo secondo questo quindi pensano che l'obiettivo sia un sistema conveniente che è un'alternativa e non si vanno oltre quindi il risultato è che tutta la nostra comunità si sta stagliando e si sta fermando sta cadendo oltre la strada perché sta scordando l'obiettivo della libertà in questo modo ci serve prima di pensare e poi qualcuno ti ha portato via e non ci fai neanche caso perché non ci pensi quindi se lasciamo che questo accada in 10 anni potremmo avere un sistema molto bello ma non sarà libero abbiamo avuto delle campagne molto belle per essere molto utili per questo l'unica distribuzione io raccomando è quella libera dove una politica e poi se si trova qualcosa che non è libero la si porta via la si elimina per esempio la distribuzione libera ututo 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 gnu sens e triskel il gnu sens triskel queste sono solo alcune potete trovare nel sito www.gnu.org slash distros so that lists the free distros ci sono 10 circa and it explains for several other distros why they are not free perché anche gli altri non sono liberi in my events people want to hand out discs of ubuntu or open susi vogliono la gente che nella conferenza vuole cd di ubuntu è open susi ma non sono liberi questi quindi quelli sono software non liberi ogni anno fa la gente che prima mi ricordi dando l'idea le persone che questi sistemi sono sostenuti da me non posso fermare la gente di diffonderli ma non voglio che voi pensiate che io li approvo i software non liberi hanno delle funzionalità malevole io ho detto di quelle parla di pianta vi ho detto delle manette digitali queste le trovate nel caso non liberi perché il programma non liberi non è sotto il programma di potenza se vengono a sapere che fa qualcosa cosa di male allora potrebbero aggiustarlo con il software libero se ci fosse una funzione malevole l'utente semplicemente la aggiusta può fare una variante modificata usando la libertà 1 e poi potrebbero modificarla usando la libertà 1 e tutti passeremo questa modalità modificata perché è migliore il risultato è che tutti gli sviluppatori che con il software non hanno nessun potere subito e non possono imporre le funzionalità malevole sugli utenti e quindi non hanno neanche la tentazione di farlo ma gli sviluppatori dei software sanno che hanno il potere hanno che ci mettono una funzionalità malevola gli utenti non possono aggiustarla non possono allevarla quindi hanno questa grande tentazione soprattutto se lo sviluppatore è una grande società e questa società il suo compito è quello di accaparrare più soldi possibili dagli altri se ci dà tanto potere gli utenti come userà il suo potere lo userà su di loro per